Più di 500 milioni di euro e per l'esattezza 553,8 è questo il budget totale messo a disposizione per il bonus asilinido per le mensilità di frequenza nel 2022. La legge 238 2021 ha stabilito un incremento dell'autorizzazione di spesa di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si legge nella comunicazione della direzione provinciale dell'Inps Nissena. Questi benefici potranno essere ottenuti attraverso una procedura che potrà essere effettuato online con le proprie credenziali dal genitore del minore oppure tramite contact center o intermediari come patronati o commercialisti. Saranno accettate le domande per le mensilità comprese tra gennaio e dicembre di quest'anno fino ad esaurimento del budget disponibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Si tratta di una misura non integrata nell'assegno unico universale per i figli e che dà un contributo alle famiglie nel pagamento delle rette mensili di asilinido. Si precisa sempre nella nota pubblici e privati autorizzati oppure come forma di supporto presso la propria abitazione per bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, si legge. L'importo del bonus viene calcolato in base agli sei minorenni che corrisponde a quello ordinario in caso di genitori sposati e conviventi e viene accreditato sull'Iban inserito nella domanda e che fa riferimento ad un conto corrente intestato o cointestato a chi la presenta e non per il quale si è solamente delegati. Il beneficiario riceve il bonus ogni mese per un massimo di 11 mensilità, il valore dipende dall'ISEE e l'importo totale non può superare la somma effettivamente pagata per la retta mensile, mentre sarà erogato nella misura minima se l'ISEE presenta omissioni e o difformità. Quest'anno è possibile autocertificare l'importo al momento dell'allegazione della fattura di cui si chiede il rimborso, la stessa può essere allegata da dispositivo mobile. L'importo mensile comprende la retta e passi relativi alla mensilità, il bollo ma non l'iscrizione al nido, il pre e il post scuola e l'IVA se la stile o nido non è gestito da una cooperativa sociale. Infine chi ha ottenuto il bonus lo scorso anno può accedere alle domande precompilate e il bonus copre la conclusione del ciclo di frequenza anche per i bambini che compiono tre anni tra gennaio e luglio.